Bene gli spettatori, benvenuti, abbiamo un'industria ospite adesso che ci parlerà della visita della vecchia signora a una produzione del laboratorio dei Fools da parte degli allievi del secondo livello, il nostro carissimo Carlo Verdura. Questa vis teatrale rivela a tutti noi come la cosmologia e la cosmesi del secondo millennio possa essere attraversata assolutamente da sintesi argotica e spazio-temporale. Sì c'è, ho sentito di questo spettacolo della visita della vecchia signora il 14 giugno e non ho potuto non comprare i biglietti. Da quando ho comprato i biglietti per me e per lui, lui ha perso la testa. Che cosa è successo? È morto. È morto? È morto. Ma com'è morto? Praticamente alla fine dello spettacolo succede che nella visita della vecchia signora... Lei sa di questo spettacolo la visita della vecchia signora del laboratorio... Oh, l'abbiamo visto, non è bello, proprio bello. L'abbiamo visto tutti quanti e ci è piaciuto proprio tanto. Bravi, bravi. No, 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 signora, non è ancora andato in scena. Andrà in scena il 14 giugno, non lo può aver visto. Signora? No, signora? Non ti potrò scordare, Piemontegina bella, visita della vecchia signora, bellezza. Scusate a tutti! Io abbraccio a tutti voi! Come in questo caso, questo spettacolo così impressionante è l'ideale. Mamma! 14 giugno, la visita della vecchia signora. Merda, merda, merda! Merda! Aiuto! Non, non, non! Grazie a tutti